Buongiorno, io sono Antonio Musso, sono past president della società italiana docenti di trasporti e vengo qui a portare il nostro saluto come ente patrocinatore di questa conferenza organizzata da Agostino, da cui mi lega una amicizia quasi cinquantennale, 48-49 anni sono passati, e Gianni Corona con cui abbiamo condiviso molte interessanti situazioni nell'ambito della SID. E poi ringrazio anche EGAF per l'organizzazione che ha portato avanti. Allora, la SID che cos'è? La SID è la società italiana docente di trasporto, lega circa 160-150 soci e nasce da un'idea geniale, innovativa, dei famosi maestri di cui parlava Gianni Corona prima. Nasce nel 1983, quindi 36 anni di vita e si trova come sedi in 27 sedi universitarie. Quindi abbiamo queste 27 sedi universitarie che accomunano i 160 persone di cui 110 ordinari e 150 juniores, perché la società è divisa in soci ordinari che sono professori di ruolo che si occupano dei trasporti del settore di CAR 05, professori di emeriti, che sono professori di chiara fama a livello internazionale, che hanno partecipato a dei convegni organizzati dalla nostra società, dando lustro a queste conferenze, a questi convegni e alle loro specializzazioni. Tra di essi possiamo ricordare il professor Werner Rothengatter, che venne a Venezia circa 6, mi pare, nel 2011, il professor Ayashi, che è stato presidente della WCTRS, della Conferenza Mondiale della Ricerca dei Trasporti del 2016, organizzato a Shanghai, e altre persone che hanno contribuito a rendere importante la nostra società nell'ambito dei convegni, tra cui Giuseppe Viegas, che è stato segretario generale del OX e Trasporti, e Karen Lucas, che si occupa di social inclusion in ambito mondiale, è stata la prima persona che si è occupata di questi problemi. Come ha detto prima Gianni Corona, la società SID persegue numerose strategie, queste strategie sono indirizzate verso vari settori, la ricerca, quindi attraverso una multidisciplinarità della ricerca scientifica, l'eccellenza, la cooperazione in ambito nazionale e internazionale con altre società simili, quindi ricordo anche il rapporto con la SIV che si sta sviluppando sempre di più negli ultimi anni, per poter portare avanti delle azioni comuni anche in ambito CUN, in quanto si stanno rivedendo tutte le declaratorie dei singoli corsi di laurea e dei singoli settori scientifico-disciplinari. Un altro punto che persegue la società è quello della formazione. La formazione riguarda la cultura, la diffusione della cultura e della mobilità attraverso convegni, seminari e pubblicazioni. Noi abbiamo un convegno annuale che viene splittato in un anno come seminario e in un anno come convegno, quindi in un anno partecipano anche attivamente con la presentazione di Pepper i colleghi del seminario, mentre l'altro anno ci sono personalità politiche istituzionali e della ricerca stranieri che partecipano a questo convegno, quindi un anno sì, un anno no. Il convegno si svolge normalmente a Roma, il seminario dove le singole università si offrono di ospitare. Per quanto riguarda la formazione abbiamo altri due punti da prendere in considerazione, quello di procedere, aiutare alla costituzione di corsi di laurea in ingegneria e trasporti o corsi aventi come il settore scientifico-disciplinare RIGAR05, che è il nostro settore, come settore caratterizzante. Quindi abbiamo attualmente a Roma una laurea magistrale che riguarda il settore dei trasporti e una laurea in inglese che sta avendo molto successo. Altre università hanno incrementato la loro presenza come settori caratterizzanti nell'ambito del nostro settore RIGAR05. L'ultimo punto riguardante la formazione è quello della realizzazione di corsi di formazione e su questo punto torneremo un pochino più tardi. Però mi piace ricordare che c'è stato un corso di formazione, una summer school per dottorandi di ricerca organizzata l'anno scorso dall'Università di Salerno. Qui c'è il professor Cantarella che con grande passione si è dedicato a questa attività, che ha avuto un successo notevole con più di 30 studenti che si sono presentati e hanno estaurato oltre una conoscenza, perché in quanto c'erano 15 colleghi che gratuitamente si sono impegnati a spiegare le parti più importanti dei loro corsi, e quindi hanno avuto quei studenti sia un background molto importante nell'ambito dei trasporti, sia hanno iniziato delle amicizie che potranno poi, e sono già consolidate nel seminario successivo sempre di Salerno di quest'anno, in ricerche comuni e dei paper comuni. Quindi è molto importante questa presenza dei giovani e questa presenza di questi seminari che possono dare un valore aggiunto notevole alla nostra società. E in ultimo abbiamo un obiettivo di sostenere le strategie di utilizzo dei veicoli fonte energetiche sostenibili, e questi sono i punti che riguardano poi il nostro impegno verso l'esterno, di cui parleremo più tardi. Voglio ricordare molto velocemente gli ultimi convegni. Si parlava del convegno del 2009, io passo al 2010. Il 2010 è stato un convegno molto importante, organizzato sempre dall'Università di Roma, riguardante un'agenda per la ricerca nella sicurezza stradale. Convegni a cui sono intervenuti i direttori generali del Ministero dei Trasporti che si occupano di sicurezza, sono intervenuti funzionari della Commissione Europea ed altri esperti che si occupano di sicurezza. Poi passiamo al convegno del 6 ottobre del 2011 di Genova, è stato il 18esimo convegno nazionale, che ancora era convegno e seminario. Questo convegno ha parlato di sostenibilità economico-finanziaria, energetica ed ambientale, di sistemi di trasporto ed il contributo all'innovazione tecnologica. Convegno che ha avuto molto successo, come dicevo, c'è stata la relazione metodologica generale di Rottengatter e su questo poi si è discusso per due giorni su questi temi. Si è iniziati con questo convegno a pensare che forse era necessario, oltre alla presenza di esperti della società, quindi con i nostri colleghi, che potessero parlare anche alla messa a punto di un position paper che potesse essere presentato in anticipo ai convegnisti e anche ai relatori, in modo da poter discutere questo position paper e poi portare avanti delle raccomandazioni verso il mondo politico, verso il mondo economico, verso il mondo istituzionale. Abbiamo Padova nel 2012, la riduzione delle risorse nel settore del trasporto collettivo, effetti economici, sociali, ambientali e possibili soluzioni. In questo, come dicevo, è intervenuto Karen Lucas dell'Università di Leeds, che ha dato il suo contributo, perché è stata la prima che si è occupata di social inclusion nei paesi e nelle città dell'UK, della Gran Bretagna, e quindi ha messo in moto una serie di domande, di quesiti a cui ha risposto e che sono serviti poi ad alcuni colleghi per preparare dei paper che riguardassero questo tema. Poi andiamo a Trieste, ottobre 2013. Il ruolo dell'ingegneria dei sistemi di trasporto in una visione moderna delle infrastrutture e dei servizi. Anche in questo caso non ci sono stati ospiti stranieri, però c'è stato il sindaco di Trieste che ha fatto il suo intervento dando un indirizzo al convegno stesso, dando un indirizzo alla successiva discussione e anche questo ha avuto un enorme successo sia di presenti sia di invitati. Poi arriviamo al 2014, il 2014 a Roma abbiamo avuto un convegno riguardante i cambiamenti climatici e il futuro del trasporto urbano. In questo caso si è presentato un position paper che è stato discusso dai vari partecipanti. Sono intervenuti oltre a varie personalità straniere, il direttore della Commissione Europea del Clima, poi come dicevo Giuseppe Viegas che era il segretario generale dell'Ox e Trasporti, quello che si chiama ITF, International Transport Forum. Poi sono intervenuti altre persone e oltre a questo sono intervenuti gli assessori all'ambiente e ai trasporti sia di Roma sia di Torino. È stato un convegno di grande spessore e ha avuto un grosso riscontro anche a livello giornalistico. Nel 2015, il 14 settembre, c'è stato un seminario scientifico che è cominciato qui la divisione, la sua divisione tra seminario e convegno. Quindi a Torino si è parlato di metodi e tecnologie nei sistemi di trasporti, quindi un ambito molto ampio, molto completo, a cui hanno potuto partecipare gran parte dei nostri soci. Sono state più di 60 presentazioni. Nel 2016 abbiamo avuto un convegno, sempre a Roma, riguardante l'Italia e la competitività del sistema portuale e il logistico nell'area del Mediterraneo. Nuovi scenari di riferimento. Anche qui ha partecipato il professor Van der Woerter, che è dell'Università di Anversa. È stato un interessante convegno perché poi è venuto a monte di un convegno successivo del giorno dopo, organizzato da Stefano Ricci, un convegno annuale che loro fanno sulla portualità. Abbiamo seminario di Bari del 2017, verso città sostenibili, soluzioni innovative per la mobilità e la logistica. Anche in questo caso sono stati più di 60 presentazioni. Interessante notare come si è passati da un utilizzo delle presentazioni e dei paper su dei proceedings redatti dalla Franco Angeli a delle special issues organizzate proprio per i convegni da journal, per esempio Transport Policy, Ingegneria Ferroviaria e altri giornali con grande potere impattante, a cui i nostri autori hanno cercato di accedere passando tutta la procedura, che è abbastanza pesante e faticosa, prima di essere accettati. Quindi a Bari abbiamo avuto Transport Policy e dopo un anno e mezzo abbiamo avuto finalmente la special issue con sei paper che erano stati presentati durante il seminario. Summer School. Summer School, questo è il programma. dal 5 al 12 settembre, organizzato dall'Università di Salerno, che ha fatto in modo, attraverso una serie di finanziamenti dell'Università, di rendere per gli studenti il pagamento della quota molto limitata. Quindi c'è stata la possibilità di essere ospitati nel campus di Fisciano, dell'Università di Salerno. Ci sono stati vari pranzi e cene con una cena di gala in cui si è parlato anche della SIDS e del suo ruolo, specialmente per i giovani ricercatori e per i giovani accademici. Abbiamo, ottobre 2018, soluzioni innovative per la mobilità urbana, prospettive ed opportunità. Anche in questo caso, con il Position Paper, sono state presentate delle raccomandazioni che, per concludere, vedremo più dettagliatamente. Il mese scorso, a settembre, il seminario scientifico a Salerno su Transportation Systems for Smart, Sustainable, Inclusive and Secure Communities. Anche in questo caso abbiamo avuto una grossa frequentazione, più di cento soci si sono presentati, di cui moltissimi giovani. È interessante pure ricordare come nell'ambito delle presentazioni dei giovani è stato presentato, preparato per loro un premio, un premio giovani, che riguarda la possibilità di frequentare la prossima Summer School, che sarà a settembre del 2020, sempre a Salerno, accedere a questa Summer School gratuitamente. Quindi c'è stata una buona competizione e c'è stato un vincitore del premio giovani. Per finire vorrei ricordare alcuni dei punti fondamentali che sono stati portati avanti come raccomandazione nell'ambito dei due ultimi convegni, quello di Roma sui sistemi innovativi e quello di Salerno. Ossia, i principali ambiti dei trasporti, la SIDI ritiene necessario intervenire ai fini del miglioramento della mobilità, della logistica e della vivibilità degli spazi urbani. attraverso ricerche e formazione, pianificazione, smart city and city ETS, aspetti normativi e regolatori, LAS, quindi Logistics as a Service, ANMAS, Mobility as a Service, interazioni veicoli e infrastrutture. In quest'ambito si è parlato di veicoli elettrici, si è parlato di veicoli autonomi, si è parlato di interazione veicoli e infrastrutture. Quindi per concludere, un'ultima slide che riguarda, che parte da quelli che erano gli obiettivi che aveva nominato il professor Corona e che ho fatto vedere velocemente all'inizio della presentazione, come procede la SIDI negli studi e le ricerche e le sperimentazioni in ambito, attraverso la ricerca scientifica ed applicata, la formazione specialistica e soprattutto le relazioni con istituzioni, qui ricordo la SIDI, la SIV, SIET e altre società scientifiche e società civile, tra cui Ministeri, Astra e varie società del trasporto pubblico. Quindi i punti da perseguire riguardano la valorizzazione della ricerca e della formazione specialistica e gli strumenti per la condivisione di scelte strategiche per la mobilità. Grazie.